Interrompiamo le vostre vite regolarmente programmate per delle flash news, che cambiano la vita. Questo messaggio giunge da Greg Gilles, che canalizza la Federazione Galattica di Luce. Dice che quando messaggi simili, e in tantissime canalizzazioni, molte riportate in questo blog, vengono fatti annunci analoghi, si saranno diffusi a breve termine, e un numero sufficiente di persone potranno interpretare gli arresti senza paura e nella giusta prospettiva, gli arresti, già iniziati, potranno diffondersi immediatamente agli alti livelli, con delle conseguenze cambia vita. Chiede di essere diffuso sui social network, blogs, eccetera. Lascio a voi scegliere, un piccolo commento, da chi, come tutti voi, vive nell'esperimento dualistico. Speriamo che sia la volta buona. Ecco il messaggio. Interrompiamo le vostre vite regolarmente programmate per delle flash news, che cambiano la vita. Tutta la tua vita hai aspettato la buona notizia, e quel giorno è finalmente arrivato. Molto presto sarete testimoni di arresti di massa su larga scala in tutto il mondo, di molti uomini e donne, che avete conosciuto come i leader politici e finanziari del mondo. Questi arresti giungeranno in alto negli Stati Uniti e nel governo, e comprenderanno molti membri dei mondi finanziario e bancario. Molti di questi nomi si riconosceranno immediatamente, anche se alcuni non si potranno riconoscere immediatamente, tutti comunque hanno attivamente preso parte a crimini gravi contro il popolo, lasciando le nostre nazioni in bancarota, perché hanno saccheggiato i nostri soldi guadagnati con fatica. Questi arresti sono rivoluzionari, e questi arresti cambieranno la Terra. L'umanità sarà finalmente libera dal controllo tirannico di questi potenti, comunemente noti come la Cabala. Questi arresti non dovrebbero essere una sorpresa per molti di noi dato che tutti sappiamo in fondo, che c'è qualcosa di molto sbagliato in questo mondo, un luogo dove tanti vanno a letto affamati di notte, mentre pochi altri sono in possesso non di milioni o miliardi, ma di migliaia di miliardi di dollari, rubati dalle fatiche del popolo. C'è sempre stata abbastanza ricchezza su questo pianeta per esistere, eppure questi pochi uomini e donne hanno tenuto per sé la quasi totalità della ricchezza del nostro mondo, lasciando il resto di noi a competere solo sulle briciole. Dopo questi arresti, la situazione sarà cambiata. Molti nuovi progetti verranno immediatamente attuati sotto la nuova leadership di uomini e donne della più alta integrità, che si sono impegnati a ristabilire nel nostro mondo l'utopia di una volta, governata da un processo costituzionale veramente democratico. Ci sono molti uomini e donne dediti a questa causa in tutto il governo degli Stati Uniti, le agenzie del Pentagono, i militari, il settore finanziario, così come nel settore delle imprese private, i quali hanno impegnato così tanto della loro vita a questo sforzo, e sono così ansiosi di presentare per l'umanità il nostro nuovo sistema di abbondanza, che hanno lavorato così diligentemente in segreto per anni. Nell'ambito del presente procedimento, somme enormi di ricchezza, che sono stati rubati dal popolo verranno ridistribuite attraverso programmi, che beneficeranno grandemente ogni uomo, donna e bambino sul pianeta. Nessuno potrà essere trascurato, e nessuno sarà dimenticato, ma c'è di più, dopo gli arresti di questi molti membri della fazione criminale, la seconda fase di questa operazione avrà inizio. Oggi il nostro mondo è stato visitato da molti esseri spiritualmente illuminati che vogliono riunirsi apertamente con la loro antica famiglia. Questi uomini e donne spiritualmente avanzate stanno aiutando nel disarmo della cabala criminale, che ha controllato gran parte militare del mondo e possedeva sitemi di armi molto avanzati. Questi antenati avanzati della razza umana appaiono proprio come noi, anche se ci sono altri esseri, che ci incontreremo anche che non appaiono come noi. Tutti sono ascesi esseri spirituali, che sono qui solo per aiutarci ad apportare le modifiche, che tutti sappiano nel profondo che sono bisognose di essere fate. Questi esseri sono i progettisti originali di questo mondo, e sono le stesse avanzate civiltà, che hanno costruito molti dei grandi misteri archeologici come le piramidi in Egitto. Non sono estranei a noi e a tutti, come noi siamo i loro antenati, tutti noi. Un esperimento sociale molto importante è stato condotto qui per molti anni ed ognuno di noi è stata una parte di esso. Siamo stati lasciati qui, apparentemente da soli, a risolvere le cose da noi stessi. Questo esperimento è finito ed è stato un enorme successo. Siamo ora in procinto di riunirsi con i nostri fratelli e sorelle delle stelle e di essere accolti nella più grande comunità galattica. Dal momento, che ci sono molti mondi, che hanno molti nomi, è più facile fare riferimento a loro in questo momento con il nome della loro pacifica alleanza, la Federazione Galattica di Luce, anche se anche altre organizzazioni spiritualmente avanzate sono qui, tra cui il Comando Ashtar. Dopo questi arresti e la nostra riunione con la nostra famiglia delle stelle, tutti i problemi del nostro mondo saranno velocemente senza intoppi portati ad allinearsi con la nostra nuova società dell'età dell'oro, attraverso la leadership di anime di puro intento cuore. Attraverso uno sforzo della comunità in tutto il mondo, tutte le guerre, fame, povertà, malattia, e l'inquinamento saranno presto un ricordo del passato, così come la nostra vita quotidiana di servitù. Le tecnologie avanzate andranno a sostituire il nostro bisogno di faticare nelle nostre vite, e tutti saranno liberi di perseguire ogni sogno creativo, che abbia mai avuto. Tutto questo avrà inizio con gli arresti imminenti dei molti membri della fazione criminale, e questi arresti avranno luogo non appena un adeguato numero di cittadini del nostro pianeta saranno consapevoli di ciò che questo lavoro significa per la nostra società. Questo è il motivo per cui state leggendo queste parole oggi, dato che molti membri della vostra famiglia umana stanno facendo tutto il possibile per condividere questa notizia con voi e fare la loro parte per inaugurare la nostra nuova civiltà dell'età dell'oro, di pace, libertà e prosperità per ogni uomo, donna e bambino in tutto il nostro mondo. Si prega di partecipare a questa grande causa, condividendo questo messaggio su Facebook e altre reti sociali online. Questa è la tua occasione per fare davvero la differenza, ed essere un leader del tuo prossimo. Se tutti noi facciamo la nostra parte per diffondere questa notizia, noi tutti cominceremo a testimoniare questi arresti di alto profilo in tutto il mondo, e questo sarà il segno per voi che tutto quello che hai appena letto è vero. Grazie.